ciao a tutti allora visto che ormai il mese di aprile bello è passato ho pensato che il momento era adatto per girare il mio ormai consueto video di aggiornamento sulla mia lettura annuale per il 2017 come sempre metterò nell'info box il link al video in cui spiego più meno come funziona questa lettura che comunque molto basilare e poi metterò come sempre anche in sovraimpressione la foto della mia stesa così da darvi un'idea generale delle carte che sono uscite allora per quanto riguarda aprile la mia carta è stata la rota della fortuna abbinata alla runa sovilo allora devo dire che è stato piuttosto inaspettato l'andamento di questo mese per me e onestamente mi aspettavo che fosse un tantino non per forza positivo però un attimino forse più più tranquillo e prevedibile invece devo dire che è stato veramente pieno di cose che non mi sarei mai aspettato è anche un po sgradevole sotto certi punti di vista quindi come sempre le carte anche per quanto noi lo possiamo conoscere ci riservano sempre qualche sorpresa e questo è un po anche il bello secondo me difatti il motivo per cui continuo a fare questi video e a controllare periodicamente l'andamento dell'anno è proprio per vedere in che modo posso interpretare bene oppure meno bene a volte le carte e quali sorprese appunto possono riservare se parliamo di aprile la rota della fortuna in generale noi sappiamo che dovrebbe presagire qualche cambiamento la rota che gira quindi sicuramente qualcosa che si modifica che che avanza magari però per quanto mi riguarda non è stato affatto così nel senso che per me aprile quest'anno è stato caratterizzato sì da qualche cambiamento però nulla che in realtà fosse particolarmente proiettato in avanti ora in effetti il significato della ruota potrebbe anche essere interpretato a volte come qualcosa che cambia non necessariamente in positivo però questo è qualcosa che è molto difficile da dire quando non si usano le carte a rovescio io personalmente ho scelto di non utilizzarle da più di un anno a questa parte e quindi se avessi avuto la carta in questo modo forse sarei stato più tentato di vederla come poi effettivamente è andata avendo la dritta per scelta sicuramente è chiaro che ho avuto molta più difficoltà e in effetti poi i fatti hanno dimostrato che la mia visione è stata un pochino limitata quindi da questo punto di vista credo che sia una grande lezione quello che ho imparato comunque e mi sta portando forse a rivalutare anche un po' questa mia politica verso le carte del rovescio non dico che voglio imparare comunque ricominciare da subito a utilizzarle però sicuramente scegliere di usarle sempre solo al dritto credo che stia cominciando a darmi un po' stretta come cosa quindi già questo credo che sia qualcosa su cui riflettere quindi diciamo che da questo punto di vista ecco è già qualcosa di importante se vogliamo in particolare poi la carta della ruta della fortuna tratta da questo mazzo di guadagnon che ho scelto di utilizzare per questa lettura annuale avrebbe dovuto probabilmente farmi capire che questo mese sarebbe stato un po' ingarbugliato nel senso che se guardiamo la carta questa qui somiglia quasi a una chiappa sogni ricordo quando ho fatto la recensione del mazzo che insomma mi aveva un po' colpito perché c'è questo ingarbuglio veramente tutti questi nastrini legati che si intersecano e non si capisce quasi nulla no? quasi a voler far capire che sì la ruota del destino gira sicuramente quant'altro però è fatta di tante forze tanti piccoli elementi che si intrecciano che vanno a complicare il tutto quindi quell'idea appunto di complicazione che a volte può esserci nel destino quindi una carta che di solito può essere molto incoraggiante e positiva come la ruota a volte può essere anche indice di qualcosa che non va sempre per il verso giusto quindi sicuramente è qualcosa che avrei dovuto considerare e onestamente non ho fatto quindi un'altra piccola lezione questa il fatto poi che essendo in primavera ormai devo cominciare per forza a rapportare un po' questa carta a quella che mi è uscita per la summa diciamo dell'anno che è il mondo è molto interessante che io abbia adesso in questo periodo la ruota e il mondo che sono rispettivamente la carta centrale degli arcani maggiori e quella finale che poi entrambi in realtà vanno a rappresentare sia qualcosa che finisce ma al tempo stesso qualcosa che inizia quindi sono carte speculari se vogliamo e quindi è molto bello secondo me poter cominciare a rapportarle e se devo fare una sorta di paragone fra le due sicuramente il passaggio dalla ruota al mondo mi fa capire che c'è qualcosa che attualmente nella mia vita è molto disordinato molto ingarbugliato molto complicato anche che però deve essere così perché altrimenti non potrà poi evolversi verso la stessa forma se guardiamo però tutto molto più regolare tutto ordinato tutto al proprio posto gli stessi colori che abbiamo qui li abbiamo anche qui però disposti in un ordine ben preciso mentre qua sono alla rinfusa quindi mi piace moltissimo questa idea che adesso da questo caos attuale più o meno forse sta iniziando il momento in cui piano piano si arriverà poi a una forma di ordine, a una forma di completezza quindi da questo punto di vista voglio vederla in modo incoraggiante inoltre la parte più positiva diciamo di questa lettura è che in abbinamento appunto c'è la runa Sogelo che come sappiamo è la runa del sole quindi già di per sé insomma dovrebbe essere abbastanza positiva però la cosa che mi piace di più di Sogelo è che anche essendo legato al sole la sua forma in realtà ricorda più quella di un lampo o di un fulmine e io ho sempre visto i fulmini e i lampi come qualcosa che in effetti dura un attimo solo però in quell'attimo vanno a connettere cielo e terra quindi vanno a connettere due realtà molto diverse quali possono essere quella materiale e quella spirituale ad esempio ed è qualcosa che curiosamente ritrovo anche nella carta perché abbiamo la ruota che rappresenta anche un po' il mondo per la forma ovviamente però intorno ad essa abbiamo il sole e la luna quindi lo spazio, il cielo e lo stesso accade qui abbiamo la figura centrale che rappresenta la terra quindi il mondo materiale e poi intorno il vuoto dello spazio con le stelle quindi ancora una volta quello che c'è oltre lo spirituale e il fatto che per questo mese la mia runa sia Sogelo ovvero quella scintilla, quel lampo, quel fulmine che per un attimo unisce le due cose mi fa presaggire diciamo positivamente che ci sia insomma un lavoro che sicuramente in parte è già iniziato ma sicuramente dovrebbe essere in grado di progredire verso qualcosa di più concreto quindi qualcosa di più completo anche insomma quindi dal punto di vista spirituale mi fa ben sperare questa lettura e questo abbinamento in particolare per il resto dal punto di vista più pratico devo dire che appunto la ruota si è rivelata per quello che è qualcosa di imprevedibile proprio come la fortuna ovviamente questo mese per me è stato caratterizzato nella prima metà da una salute non proprio ottima nel senso che per due settimane abbondanti ho sofferto di quella che credo sia una brutta forma di influenza perché ero completamente intasato non vi dico da cosa ovviamente e quindi diciamo che ho avuto un po' di difficoltà proprio a livello fisico a questo mese poi però verso la metà del mese mi sono un attimo ripreso salvo poi comunque dover avere a che fare con altri tipi di problemi e in effetti qualcosa di nuovo è stato sia questa influenza che mi è presa perché di solito non mi becca mai in modo così grave però poi anche mi sono trovato a dover affrontare una piccola sfida per quanto riguarda l'ambito diciamo sociale diciamo così mi sono trovato a dover diciamo assumere un ruolo che mai mi era capitato di assumere e fra l'altro non so nemmeno se ho fatto le cose come si deve quindi è qualcosa che mi ha ricordato molto proprio il concetto di imprevedibilità il concetto di cose che non sono completamente ordinate cose su cui non abbiamo tantissimo controllo quindi diciamo che dal punto di vista strettamente più pratico e sociale anche fisico non è stato un mese proprio al top anzi direi che finora insieme a febbraio forse è stato il peggiore di questi quattro però diciamo che invece dal punto di vista spirituale l'ho vissuto un pochino meglio mi sono fatto più domande ho trovato qualche risposta quindi sicuramente il fatto che sia un arcano maggiore la ruota diciamo che mi porta più a volerlo considerare da questo punto di vista soprattutto dal punto di vista spirituale e quindi diciamo che cerco di guardare più il lato positivo diciamo per questo mese e ovviamente anche da questo punto di vista mi fa ben sperare il fatto che ci sia questa corrispondenza diciamo speculare fra la ruota e il mondo che in qualche modo è come se stesse prefigurando diciamo questa carta qui quello che poi ci sarà in futuro e devo dire che per i prossimi mesi sono un pochino più ottimista perché le carte peggiori erano veramente quelle di febbraio e marzo finora però non so vedremo ovviamente ogni mese mi trovo sempre più stupito diciamo da come le carte a volte sono letterali nel loro significato e a volte lo sono molto meno quindi ancora una volta credo che questo sia il bello della divinazione perché ci stupisce sempre io penso che nel momento in cui pratichiamo divinazione e sappiamo già tutto e sappiamo cosa aspettarci paradossalmente allora a quel punto credo che perda molto del suo fascino e perda molto della soddisfazione che può darci quindi con questo è tutto spero di avervi tenuto compagnia con questi miei sproloqui e nulla vi do appuntamento al prossimo video che sarà sicuramente a breve ciao